Ora inizio l'incontro le trame della sensualità, conduce Davide Rufinengo, Lola Beccaria e James Lasdan. Il tema di questo incontro è un po' particolare perché si parlerà delle trame della sensualità, è interessante perché i due autori hanno affrontato questo tema in un modo completamente differente, per cui sarà interessante e lo vedrete molto molto differente, questo lo diranno direttamente loro tra poi. C'è un'altra curiosità ed io comincerei da qui, sono entrambi in Italia a parlare dei loro libri per la prima volta. Per questo, siccome di solito il moderatore che per dieci minuti racconta la loro vita, cosa hanno fatto, cosa hanno scritto, io eviterei questo e passerei direttamente il microfono a loro per fare un po' le presentazioni. Quindi inizierei da lì. È la prima volta che presentate il vostro libro in Italia, mi sembra doveroso chiedervi di presentarvi come scrittori agli italiani e poi inizio a fare le domande inerenti al tema. Cominciamo, siamo dei cavalieri, vero James? Cominciamo da Lola Beccheria. Quello che sappiamo, quello che so perlomeno, è che arrivi da Madrid e... Hola, buonas tardes. Primero voglio darvi le grazie per essere qui, perché mi piace questa isla. Mi encantatevi voi, gli italiani, mi parecete guapissimi e elegantissimi. e... 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 e ora tengo che parlare di me, no? E perdonare che sto con le gaffie di sol, però è che viene un sol tremendo e... mi dà rabbia, però... e ora parlo di me, no? Parlo di me, parlo. Allora, grazie, grazie per avermi invitato qui, sono molto felice di essere su quest'isola, siete tutti bellissimi e elegantissimi. E volevo scusarvi se porto gli occhiali, ma questo sole purtroppo non mi consente di togliermeli. Adesso vi racconterò qualcosa di me. Bene, già sapete, mi chiamo Lola Beccaria, studiare filologia, sono doctora, ho fatto la tesis, però, in realtà, lo che a me mi piaccia era essere scrittura, e, bene, lo che passa è che non si può vivere della letteratura, salvo i que sono molto ricchi e vendono bestsellers, però, gli altri, gli che abbiamo una carriera modesta e vogliamo scrivere desde la calidad e con unos principi innegociabili con respecto a lo che contiamo, poi, abbiamo bisogno di pagare la ipoteca e con un lavoro alternativo. Dunque, io mi chiamo Lola Beccaria e ho studiato filologia, mi sono laureata in filologia, ma come molti scrittori non vivo principalmente di quello, non vivevo principalmente di quello, perché questo è una fortuna che capita soltanto agli scrittori di bestseller, che come me deve pagare un mutuo, deve fare un compromesso tra la scrittura e la scrittura di una qualità non negoziabile e le esigenze della vita quotidiana. A parte di questo, mi interessa molto, bueno, tuve che, in un momento dato, tuve un problema emocional e tuve che andare al psicologo, di maniera che, quando fui al psicologo, poi, descubri un nuovo mondo, che è il del autoconocimento, il di conoscere a uno stesso e i motivi per cui la nostra vita è infelice, in parte perché c'è un autoboicotteo personal che ci fa essere infelici, e molte volte perché il entorno pressione sobre noi, molte volte, molte volte i rossi tradizionali, come ci hanno educato, eccetera. Ose, c'è un montone di cose che influono in come siamo e in cui non possiamo conseguire la felicità, né i nostri obiettivi, né i nostri sogni. De maniera che studié una cosa che si chiama terapia Gestalt, che è una parte della psicologia, che è una rama della psicologia che è una postura critica del psicoanalisi e che sta ora molto di moda. E tutto questo, ho avuto il titolo, e tutto questo mi ha servito in mia literatura, come una herramienta molto importante e in mia vita. C'è stato un momento della mia vita in cui ho avuto dei problemi legati alla sfera emotiva. In questo momento mi sono rivolta a uno specialista per poter capire quello che mi stava succedendo e mi sono resa conto che spesso a noi donne accade di boicottarci, di boicottarci da sole. vuoi per la pressione che su di noi esercitano i ruoli tradizionali, vuoi per tutti gli altri fattori che riescono in qualche modo a impedirci l'accesso alla felicità e a perseguirla, a ricercarla. E fu in questo periodo che entra in contatto con il mondo della Gestalt Therapy, che è un ramo della psicologia che in un certo senso assume una posizione critica nei confronti della psicanalisi. Ecco, in questo momento e seguendo questo percorso io ho acquisito uno strumento molto importante per la mia scrittura. Well hello, my name is James Lasden I would also like to say what a huge pleasure it is to be in this beautiful, beautiful city and on this island where I've always wanted to come and never had a chance. I was born in England and I moved to the United States in 1986 and I've lived there ever since. I've written... In the past I mostly wrote fiction, short stories and poetry and some film but I had never written a work of non-fiction before because I suppose I had never had a personal experience that had compelled me to write about it factually before. Salve a tutti, sono James Laboge e vorrei dirvi quanto sono felice di essere in questa bellissima, bellissima città in questa meravigliosa isola in cui avrei voluto sempre venire ma non ho mai avuto l'opportunità per farlo quindi vi ringrazio. sono nato nel Regno Unito e poi mi sono trasferito negli Stati Uniti nel 1986 e ci vivo da allora. Io scrivo lavori di fiction di romanzi brevi e sceneggiature per film non avevo mai scritto niente che non fosse di fantasy diciamo fiction però probabilmente questo è perché non avevo mai avuto un'esperienza personale che mi spingesse a farlo. come Lola ho bisogno di ottenere un livello e non posso fare un livello senza scrivere e ho inseguito come i maggiori scrittori in America ho inseguito di scrittura creativa che è qualcosa che mi sento un po' sbagliato di adottare. come Lola naturalmente non riesco a guadagnarmi da vivere scrivendo per cui come la maggior parte degli scrittori americani insegno insegno scrittura creativa cosa della quale sono un pochino imbarazzato. uno dei ragazzi che mi sembra di adottare è che è un pochino che è un pochino per un scrittore per fare con il suo vita ma è un pochino che ha risato questo molto strane ordele che è il soggetto del libro che mi sono pubblicare al momento che è che è stato staccato da un former student di mine La ragione per cui ho detto che sono un po' imbarazzato ad ammettere che insegno per guadagnarmi da vivere è che questa è un'attività piuttosto noiosa per noi scrittori però devo dire anche che mi ha permesso di avere una esperienza di questo tipo per poter pubblicare un qualcosa di non di non fictional e quindi la mia esperienza è quella di essere stato l'oggetto di uno stalking da parte di una mia ex studentessa io rimarrei un attimo con James per chiedergli e così ci avviciniamo anche a quella che è la profonda diversità di come loro trattano il tema della sensualità però visto che James insegna anche scrittura creativa mi incuriosisce molto chiedergli qual è per lui la sensualità della scrittura sia vissuta come scrittore sia dall'altra parte come lettore Allora penso che ogni volta che si scrive qualcosa o si legge qualcosa che riguarda un'esperienza c'è una certa sensualità in tutto questo e il fatto di questo libro parte da una sensualità che poi diventa molto più dark, più scura. I mean, there are these two words, sensuality and sexuality. Sensuality to me is the celebration of all physical experience. Sexuality is this very specific, very charged, very high stakes category of sensuality. And I've always been interested in that too partly because it involves these codes of conduct that we create as a culture, as a civilization in order to regulate it because it is so powerful and it can be dangerous. Diciamo, si parla sia di sensualità che di sessualità. Per me la sensualità è la celebrazione di tutto quello che coinvolge uno scambio fisico, mentre la sessualità è un qualcosa di più specifico, di molto più carico e qualcosa che ha una posta in gioco molto elevata. Io sono interessato ad entrambe le cose perché noi, diciamo, anche per quanto riguarda l'aspetto che coinvolge i codici di comportamento che noi creiamo come comunità perché questa sensualità e questa sessualità possono andare fuori controllo e diventare anche pericolose a volte. Allora invece chiederei come, perché hai deciso di affrontare questo tema e per farvi capire come lo affronta l'ironia e anche, come dire, un po' la destrezza. Vi leggo solo una frase che è nella quarta di copertina del suo primo libro tradotto in italiano in cui lei scrive Il desiderio umano non è solo sessuale, in questo senso abbiamo tutti bisogno di una bella botta, non c'è dubbio. Il desiderio un po' la sensualità è un po' la sensualità, perché si parla molto di la sensualità, però che è? Per me è qualcosa di abbastanza ampio, è qualcosa che ha a vero con il placer, il placer dei sentiti. E il placer dei sentiti è un po' la sensualità che ha a vero con tutti i sentiti, è a dire, una comida può essere sensuale, perché ti fa sentire un po' la sensualità, una musica può essere sensuale, è a dire, tutti i sentiti possono sentire un po' la sensualità. E' un po' la sensualità, è un po' la sensualità che è un po' la sensualità che è un po' la sensualità, perché credo che sta nel obiettivo di tutti noi. E' a dire, ottenere il placer di alcun modo è il nostro obiettivo, ma allà di la supervivencia, ma allà di lavorare, ma allà di dormire, cuore, eccetera. E' a dire, non è un po' la sensualità che si è un po' la sensualità che si è un po' la sensualità, in una explosione, in una explosione che è il orgasmo, non? Quiero dire che, se è vero che ci può gustare una comida, possiamo oire una musica, ma non si produce esa explosione fisica nel nostro corpo, per questo io credo che il placer sexual si è convertito in qualcosa che è un po' la sensualità che è un po' la sensualità. È un po' la sensualità che è un po' la sensualità che è un po' la sensualità che è un po' la sensualità, e sta al di sopra delle necessità primarie, ossia lavorare, dormire e mangiare. Tutti noi perseguiamo il piacere. quello che invece accade al sesso e quindi alla sessualità è l'essere un tipo di piacere che culmina in una specie di esplosione mentre uno mangia un buon piatto di un cibo che ama lo gusta e li finisce e la stessa cosa è il piacere legato all'ascolto di una musica il fatto che invece il piacere sessuale culmini con l'orgasmo lo rende un piacere diverso e un piacere in un certo senso speciale perché decidì scrivere sobre la sessualità? dice Ana Isning che i scrittori devono illuminare le zone in sombra in questo caso zone in sombra vuol dire i tabusi, i espacios confinati, i lugares mai visitati poter conquistarli, poter reconquistarli e facerli nostri quindi per questo io scrivo fondamentalmente sulle sexualità femenina lo che non vuol dire che non interesse per uguali agli uomini perché credo che tutta sexualità è interessante per ambos i sexi credo che parlare di sexualità femenina è parlare di sexualità umana e della sexualità degli uomini seguo? grazie ho deciso di scrivere di sensualità e di sessualità mi sono ispirata a quello che diceva Ana Isning ossia gli scrittori devono illuminare le zone d'ombra e ho deciso quindi di indagare i tabù, le zone nascoste, quelle poco raggiungibili della natura umana proprio perché era mia intenzione mostrare la possibilità di conquistare o di riconquistare questi spazi e di farli nostri e quindi parlando della sessualità femminile della sensualità femminile in realtà non intendevo parlare solo di donne perché la sessualità accomuna gli uomini e le donne in realtà volevo parlare di sensualità umana io ho cresciuto con la idea di che gli uomini tenen una necessità erotica, expresa, che devia essere satisfeita però non ho cresciuto con la misma idea di come mujer nessuno mi ha detto che io tenia derecho a una sexualità plena e che tenia derecho a parlare di lei e a satisfacerela molto per il contrario, mi ha detto che se mi ha detto che se voleva con le raggi in la mano corria il rischio di essere giudata questo è per lo che, diciamo, ho luchato sempre per recuperare ese spazio di libertà di poter parlare le donne sobre la nostra necessità erotica hai una frase che sicuro che os suena che è una mujer per andare a la cama tiene che essere innamorata no? quindi, questo tipo di cose che è vero è vero che può essere innamorata però non necessariamente quindi, io credo che la verità revoluzione sexual femenina non è poter accostarci con quien queramos perché la mujer sempre si ha podito accostar con quien ha querido sempre, desde Cleopatra sino poter parlare in libertà di nostra necessità poter ponerle parole e poter parlare in un estrado tengo una necessità sexual io sono cresciuta con l'idea che gli uomini avessero un diritto di soddisfare la loro sessualità questo è un fatto acquisito da sempre ma nessuno mi ha mai detto che io come donna avessi lo stesso diritto di farlo e di reclamarlo quindi, mi è sempre stato detto che se me ne vado in giro con le mutande per aria rischio di essere giudicata e se mi si vedono le mutande ci si fa una pessima idea di me ecco, io volevo recuperare questo spazio di libertà perché le donne potessero parlare delle loro necessità erotiche ad esempio la frase classica che si sente dire è una donna per andare a letto con un uomo deve esserne innamorata ma non è necessario, questo non è assolutamente vero in realtà le donne da sempre sono andate a letto con chi le garbava garbava loro a partire da Cleopatra insomma hanno sempre esercitato questa libertà quello che invece non succede è che le donne abbiano la libertà di esprimere i propri desideri erotici e le proprie necessità sessuali questo vorrei che fosse un po' il percorso da considerare chiederei a James innanzitutto una curiosità perché lui si è stupito che in Italia il libro sia stato pubblicato come romanzo perché invece lui dice è tutto vero ed è una storia totalmente autobiografica e quello che gli chiederei lui praticamente riceve, subisce uno stalking da parte di una sua studentessa che inizialmente appunto inizia a scrivere una mail per sapere cosa ne pensa del suo romanzo lei tra l'altro è molto brava e lui lo riconosce quindi si mostra disponibile e da qui la domanda diventa questo gioco della sensualità a volte sembra che non abbia delle regole e la tua storia lo conferma quindi la domanda diventa appunto se ne sono quasi certo perlomeno che visto che il tema del festival è i giochi dell'essere la sensualità non ha regole o sbaglio I don't think it has any intrinsic rules which is why people invent rules around it you also asked about whether this is a novel I mean it is a true story and I don't I'm not sure why it's called a novel but it's completely autobiographical but I did give myself the freedom to digress into all kinds of different subjects while I was telling the story the story of the stalking is sort of the spine of the book and off that central spine are various digressions where I talk about things like what governs the relationships between men and women how do we think about it how does that thinking change over time and I look at it through various different lenses one of them is literature, myth, folklore another is through lives of other people like Freud, D.H. Lawrence and then other personal experiences of mine No, penso di no penso che non ci siano delle regole intrinseche nella sensualità ed è per questo che gli uomini ne inventano tante intorno alla sensualità di regole sì, la mia è una storia vera non so come mai sia stato diciamo considerato un romanzo è un qualcosa di completamente autobiografico io però mi sono dato la libertà di fare delle digressioni diciamo ho preso come spina dorsale la storia vera che mi era capitata e però appunto ho fatto nel corso di questa storia principale di questa spina dorsale delle digressioni per esempio chiedendomi che cosa governasse le relazioni tra uomini e donne di come fossero cambiate nel corso del tempo e ho anche fatto riferimento ho visto tutti questi argomenti anche dal punto di vista della letteratura del mito, del folklore ho anche analizzato le vite, le biografie di personaggi come Freud D.H. Lawrence e anche alcune delle mie esperienze personali per farlo D.H. Lawrence ma stai chiedendo le regole del gioco e e l'unico quando le cose sono bene tra due persone se è un uomo e una uomini fallendo in love o due persone diventando amici o o ogni tipo di relazioni humana è capito che è ok per una persona dire no e in mio caso non è non interessato in avere un affare con qualcuno che ha diventato somewhat obsessed with me and I said no and she seemed to be still playing the game by the rules she took it fine but then something happened which is a little bit of a mystery to me exactly what suddenly it wasn't fine and at that point it ceased to be anything like a game it was a different order of experience what ensued for the next five years Allora la domanda comunque era diciamo quali sono le regole del gioco suppongo che quando le cose vanno bene tra due persone sia che si tratti di una relazione tra un uomo e una donna o tra due persone che diventano amiche diciamo che va tutto bene quando le cose vanno bene c'è appunto una ci sono, ci si rispettano queste regole del gioco e va tutto bene quando una diciamo è in questo in questo ambito è corretto diciamo è possibile che una delle due persone dica di no nel mio caso io non ero interessato ad avere una relazione con questa persona e ho detto di no lei sembrava aver preso bene la cosa all'inizio poi è successo qualche cosa per me è un mistero ancora oggi sapere che cos'è che a un certo punto ha fatto sì che non le andasse più bene il fatto che io abbia detto di no e quindi da lì tutto questo è accessato completamente di essere un gioco tra due persone ed è diventato quello che è diventato nel corso dei successivi cinque anni e guardate e guardate e guardate e guardate e guardate e guardate rappresentazioni di questa situazione sono comica perché c'è qualcosa difficile di fare seriously di un uomo diciamo no soprattutto quando la moglie è molto attrazione come in mio caso e quindi questa è una grande parte della mia storia dealing con come to get past the essential frame of comedy that most people regard this situation through because it had stopped being funny in any way very quickly c'è un'altra cosa a quel punto la storia aveva completamente cessato di essere un gioco non sono sicuro non so bene come porre questo pensiero però c'è un qualcosa di diverso nel modo in cui le persone percepiscono quando è una donna a dire di no e quando è un uomo a dire di no ho affrontato questo tema passando attraverso il mito la letteratura e nelle rappresentazioni del mito e della letteratura di queste situazioni diciamo quando è un uomo a dire di no questo tipo di situazione viene sempre rappresentata come un qualche cosa di comico perché è qualcosa di comico che un uomo dica di no specialmente se la donna è una persona molto attraente come era nel mio caso e ho cercato in tutti i modi di cercare di superare diciamo questa cornice di comicità che insita in questa situazione perché assolutamente non era più divertente per niente la mia situazione esco un attimo dal tema proprio una domanda flash ancora a James che però mi ha divertito molto chi leggerà questo libro che si intitola dammi tutto quello che hai che in Italia è stato pubblicato da Bonpiani a un certo punto lui è in Provenza per un viaggio e racconta che quando torna ha dei problemi perché in giardino sono cadute delle piante e fin lì va bene però ho riso molto quando ho letto che un orso ha devastato la sua casa quindi volevo solo sapere se ci può portare un po' nel suo territorio dove abita perché chiaramente l'immagine è decisamente curiosa è sempre molto bello di andare a questo particolare in qualche modo io vivo in the Catskill mountains outside Woodstock the Woodstock of the famous festival è molto rurale sono in the mountains scrivo in una sala in a barn over looking woods in a little field e out through my window there's a steady procession of wildlife deer raccoons skunks possums and occasionally a bear and the bears like to get into the house allora è bello uscire un po' fuori tema dall'argomento del mio libro per sdrammatizzare la situazione diciamo io vivo in una zona montagnosa vicino a Woodstock Woodstock è la famosa località dove c'è stato il famoso festival musicale negli anni 60 è una zona rurale montagnosa e io scrivo in una stanza che si trova in un fienile diciamo così e ha una vista bellissima sulla campagna sui boschi e sulle montagne e c'è davanti a casa mia una continua processione di animali selvatici dai cervi ai procioni alle puzzole agli opossum e occasionalmente c'è anche qualche orso e agli orsi piace molto introdursi nelle case delle persone Lola invece per quanto riguarda il romanzo di Lola Beccheria in questo caso è proprio un romanzo sentitola basta non dire ti amo e chiederei a Lola se ci porta un po' in questo workshop che Iris la protagonista del suo romanzo è costretta contro voglia a organizzare e in questo senso la domanda diventa primo se ci racconti un po' questo workshop parentesi mettetevi nei panni del sottoscritto perché su questo libro c'è scritto chiaramente un romanzo sulle donne e per le donne quindi prima della presentazione ho chiesto di avere pietà di me a Lola quindi se ci racconti un po' di questo workshop e se la seduzione si può insegnare da dove si parte per insegnare la sensualità ad essere donne più sensuali più seduttrici bene lo primero che sempre mi sempre mi enfada quando un hombre dice che E questo... Se invece è una donna che parla dei sentimenti, allora si dice, vabbè, è il solito discorso tra donne, è il solito libro per le donne. Non ti arrabbiare questa volta però. No, 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 no me enfado. No, io penso che tutto lo che possiamo scrivere, tanto hombres come mujeres, sobre iluminar la amplia materia dei sentimenti, è benvenuto. E, magari, a los hombres si os convendria asomarci un po' a nostro mondo, perché dice Jung che il hombre, dice, la mujer che necessita essere più liberata, è la che sta constrezzata dentro di un hombre, la che vive dentro di un hombre. È a dire, tutti gli uomini avete una parte femenina, che è meravigliosa, però la avete un po' con ganas di salire, e non ha nulla che vero con la umbrina. Hai un pregiudio, che dice che se sentite, se esprisate emocioni, eccetera, è un pregiudio antico, che vais a essere meno uomini. E questa è una mentira che ci hanno venduto, perché la umbrina è una cosa fisica, è a dire, un hombre non può lasciare essere un hombre, perché ha una cosa tra le pierne che lo dimostra. E questo non si cae, non si pone più piccolo se ti fai. Allora, no, possiamo scrivere invece per illuminare questa materia ancora tanto scura dei sentimenti, dei quali si parla molto, ma poi si capisce forse un po' meno. Infatti Jung affermava che la donna che ha maggiore necessità di essere liberata è quella che sta prigioniera dentro a un uomo. Perché, dobbiamo dirlo, la virilità non è una questione di sentimenti. Un uomo non è meno virile se parla dei suoi sentimenti, perché ha un appendice tra le gambe che non casca, non si riduce, non perde di potenza se quest'uomo parla di sentimenti. Ecco, la virilità è un fatto fisico, il parlare dei sentimenti è un'altra cosa. Io vorrei dire una cosa che mi sembra importante, che c'è una autora, la premio Nobel austriaca Elfried Jelinek, questa moglie, che è una feminista radical, dice che aveva intentato fare il processo di scrivere, osea, di scrivere desde un linguaggio erotico, di un linguaggio di sensualità femenino. E dice che aveva di tirare la toalla, che aveva di renunciare perché si ho avuto a che il linguaggio erotico è fondamentalmente masculino. E, bueno, io sto relativamente d'accordo, sto d'accordo in che atta fa ben poco il linguaggio erotico era in effetto masculino, però tutto tenia che vero con il rol tradizionale che abbiamo avuto a assumere. Quindi, quando tu sei passiva, quando ti dann il ruolo di passiva, quando il ruolo di activo è il del hombre, tu poco tiens che fare, però non sto d'accordo in che non exista un linguaggio sensual femenino. De hecho, io, questo è uno dei motivi per cui io scrivo. Osea, io scrivi una mujer desnuda, che è una donna nuda, che lo tieni allà, e ora ho scritto questo altro libro e va sempre in la misma linea, recuperare il linguaggio erotico femenino che ci hanno hurtato desde hace siglos. Ella lo che dice, Alfred Jelinek, ella parla di la penetrazione. Osea, ella lo che dice è che mentre, osea, che il mero fatto di la penetrazione è un atto fondamentalmente masculino. E io non sto d'accordo, non sto d'accordo, perché, bueno, sì, in altri tempi, è vero che la penetrazione, se faccia la forza, suponía sumisione, e suponía violazione, e suponía che ti facciano qualcosa che non volessi. Però, a parto di questo, non possiamo seguir pensando che la penetrazione è qualcosa di masculino, visto che noi abbiamo una vagina che ti ha la caratteristica biologica di che introduciendone qualcosa, disfruta quindi bisogna dare la volta a questa questione tornare activa e dire nel momento in cui controlliamo lo che entra già abbiamo ese linguaggio femminino il problema non era del linguaggio, il problema era di posizione era di, se io sono una vittima e sono passiva e deixo che faccio conmigo lo che vogliono il linguaggio sarà mascolino, però se io sono attiva io ho una vagina e decido questo entra e questo non e ademais può non entrare lo mascolino sino che, bueno, può usare un consolador quero dire che questo non ha sexo ose, ose, che diciamo che hai che recuperare nostro linguaggio perché è assolutamente necessario e credo che a los hombres anche se possa dare un po' di miedo credo che os va a dar molto gioco perché il gioco come abbiamo stato vedendo qui il gioco tiene sus reglas e le regole del gioco sono che devono essere uguali per ambos giocatori un'altra delle mie muse ispiratrici è un premio Nobel austriaco che si chiamava Elfried Jelinek che è stata una femminista radicale e nei suoi studi aveva deciso di creare un linguaggio erotico femminile perché aveva considerato il fatto che fondamentalmente il linguaggio del sesso fosse maschile e mascolino ora fino a poco tempo fa forse questo era anche vero perché nella suddivisione tradizionale dei ruoli la sessualità femminile era vista come un elemento passivo e quindi una donna che vive dal rapporto sessuale in maniera passiva accettava anche un linguaggio passivo con il quale si raccontava il sesso adesso per fortuna le cose stanno cambiando ho scritto una donna nuda e anche quest'ultimo libro mio proprio con la volontà di recuperare un linguaggio erotico al femminile sì la Jelinek parlava di penetrazione come una parola oltre che un fatto maschile e maschilista in un certo senso ma non sono necessariamente d'accordo perché una donna ha anche un ruolo attivo al giorno d'oggi in un rapporto sessuale le donne hanno una vagina hanno una vagina che dà loro piacere quindi la conformazione fisica non è necessariamente quella che porta a un rapporto passivo quindi adesso dobbiamo riconsiderare il rapporto tra uomini e donne anche perché la penetrazione può avvenire anche non necessariamente tra una donna e un uomo ad esempio esistono i vibratori che in un certo senso spersonalizzano il rapporto sessuale possono essere usati da tutti quindi in questo momento si assiste a un cambiamento delle regole di questo gioco per tornare al tema della serata e certamente questo cambiamento delle regole può essere anche destabilizzante per un uomo Senti Lola Destabilizzante e anche in un certo senso positivo cioè cambiare le regole può portare anche a conseguenze positive nel rapporto tra uomini e donne Ok siccome non mi ha risposto dire che io torno però al romanzo c'è un personaggio molto si sono incastrati gli occhiali intanto io faccio la domanda caro James dicevamo a questo è un gesto seduttivo ok allora poi chi è stato attratto da questo gesto seduttivo lo comunica Adesso si che può parlare della seduzione ok Adesso ti spiega si perdona è che mi mi ha piaciuto dire questo e già mi ha quedato tranquilla e ora parlo di questo la seduzione io credo che non è che si può insegnare a seduzire è che c'è una cosa che non sappiamo e è che tutti sappiamo seduzire tutti è come quando compras un coche che ha varias prestazioni di serie bene il sero viene con la seduzione di serie tutti sappiamo seduzire il problema comincia quando ese meccanismo se nos bloquea vale e ese meccanismo se può bloqueare per diversi motivi uno di esso è perché abbiamo vivido una situazione traumata abbiamo tenido una parella e ci si lasciato o si è morto quindi ci si ci si ci si la vacanza di esa persona il abandono il dolore del abandono è stan doloroso che non podemos sopportarlo e come non queremos volvere a passare por algo así decidimos retirarnos del mundo della seduzione adesso vi spiego il punto di vista sulla seduzione allora non è che la allora innanzitutto la seduzione non si può insegnare per tale ma tutti sappiamo sedurre siamo come un automobile che esce dalla fabbrica con tutto quello che serve per funzionare ecco l'essere umano viene al mondo con la capacità innata di sedurre il problema si verifica quando uno dei meccanismi della seduzione si blocca e che questo può avvenire per diversi motivi ad esempio quando il nostro partner ci ha lasciato oppure è morto e ha lasciato un vuoto e questo senso di abbandono in un certo da un certo punto di vista blocca la nostra capacità di seduzione noi non riusciamo a sopportare il vuoto e lì ci fermiamo come essere sedutile otro de los motivos che possono blocare il meccanismo della seduzione è che lo blocate di piccini a ver antes abbiamo parlato del reparto di roles tradizionali molte volte i padri i cuidadori senza tenere la culpa di perché viviamo in una società che tiene uns mensaggi concretos nos dan de pequeños mensaggi che possono llevarnos autobloqueare nostra capacità di seduzione per esempio non posso qui ponerlos tutti però per esempio tu vales molto non hai nadie para ti o la mujer por ejemplo otro que è la mujer che va detras di un hombre se humilla otro estás bien solo para que quieres pareja bueno osea son frases che 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 non delle autobloqueare osea se las persone che chan chan dà un mensaggi che non devemos emparejarnos che non hai chi bene per nosotros lo asociamos con che chan che chan quere se facciamo caso se nos emparejamos entón vamos bloca la capacità para seducir Dunque, proprio per questo ci sono anche altri motivi, questa incapacità di seduzione. Si può ritrovare anche nell'infanzia, perché fino da piccoli si impongono dei ruoli precostituiti dalla società e ci sono dei messaggi che sono proprio deleteri per la seduzione. Ad esempio, tu vali molto e nessun uomo è la tua altezza, sei una ragazzina speciale e nessun uomo è adatto a te perché sei troppo bella, troppo brava. Oppure una donna che insegue un uomo, che sta dietro un uomo, non è una donna seria e si umilia. Oppure, va tanto bene da sola che perché mai devo cercarmi un partner o devo vedermi una coppia. Sono questi dei messaggi che nei bambini, nei ragazzini, sui ragazzini hanno un impatto molto forte, perché qualora i ragazzi assumessero uno di questi comportamenti, o se una ragazzina ha seguito un uomo, oppure se mettesse in coppia, si sentirebbe in qualche modo colpevole per averlo fatto. Un'altra idea che sta molto metta in la cabeza di tutti noi, e soprattutto in la delle donne, è una che ci hanno vendito, da molti anni, gli psicologi evoluzionisti, e è che ci hanno convenzito a tutti i donne che il suo obiettivo più è il sexuale, o se, che sono inseminatori, che sono peni con pati, che pensano con il pene, sono frasi che abbiamo oito e che se ci hanno quedato, e gli uomini hanno acabato per creerci che questo che pensano ogni 5 minuti nel sexo è una cosa divertida e buona, quando realmente gli uomini dovrebbero pensare a pensare che sono criaturi completi, meravigliosi, con molti più capacità di essere questa parte della vostra anatomia, e che ci hanno bisogno di lasciare queste idee nel tintero. A parte di questo, io ho finito, in mia novela explico un po' come liberarsi di tutte queste idee preconcebili, per poter desbloqueare il meccanismo per seducire e per poter essere felici. Sono diversi personaggi che hanno diversi temi, ose, hanno diversi roles, e di alcuna forma muestrano come deshacersi della maldizione di non poter seducirlo. Un'altra cosa che ci hanno insegnato gli psicologi evoluzionisti è che i maschi sono degli esseri sessuali. Un uomo è un pene con le gambe, un inseminatore, che pensa ogni 5 minuti al sesso e non ha altro per la testa. Ecco, in realtà no, gli uomini sono delle creature meravigliose e devono imparare o imparare nuovamente a pensare in termini un po' più ampi e quindi abbandonare questa idea così riduttiva del loro essere uomini e maschi. Ecco, in questo libro io spiego come liberarsi da questi preconcetti, come sbloccare il meccanismo della seduzione e come tentare di essere felici. Ci sono diversi personaggi che si assumono diversi ruoli per disfarsi della maledizione di non saper sedurre. Diventerà un best seller. Ancora dobbiamo chiudere, però c'è una curiosità che vorrei chiedere a James, perché L'assedio, che è un altro libro che Bonpiani ha tradotto in italiano, e l'omonimo film di Bernardo Bertolucci. Volevo sapere se c'è qualche curiosità, se in qualche modo James ha lavorato con Bertolucci o se semplicemente gli hai venduto i diritti. è stata fatta da Bertolucci. Questa è stata fatta da Bertolucci. non ho ascoltato da lui per molti anni, e poi il telefono si ringrava un giorno, e era l'agente Bernardo Bertolucci che chiedeva se i diritti erano ancora liberi, perché Bernardo voleva fare un film. in effetti era un film che voleva fare la moglie di Bernardo Bertolucci, Claire Peplow, e sono stato contattato da lei, abbiamo parlato e abbiamo cercato di vedere alcuni modi in cui il romanzo poteva essere adattato a un film. Poi è finita lì, non ho avuto notizie per qualche anno, e poi un giorno mi squilla il telefono ed è al telefono l'agente di Bernardo Bertolucci che mi chiede se i diritti erano ancora liberi, perché Bernardo Bertolucci voleva fare un film. E' tutta qui la storia. Non ero coinvolto nell'adaptare con lui. e Claire e il suo avuto la storia e hanno trasportato la storia di Londra a Roma. E' stato fatto tutto, e ho fatto fatto all'ultima, e ho fatto in una casa. E' stato fatto in una casa a la cima della spazia della spazia in Roma. E' stato fatto per la settimana per la settimana. E' stato fatto per la settimana per i giorni. E' stato davvero fascinante. Bernardo Battalucci called me the super ego of the film because I was the author and he found my presence somewhat inhibiting because they had taken huge liberties with the story which I was very happy for them to do but I could see how having an author on the set could be a little bit of an inhibition but we became friends and I admire him hugely I don't have been directly involved in the adaptation of the film and it was him and Claire who did everything they did for example the ubication of the film from London where it was ambient the film to Rome and it was almost almost interning the film in a house in cima a scalinata di Piazza di Spagna e io sono stato a Roma per un weekend per vedere le riprese ed è stato veramente affascinante vedere Bernardo Battalucci in azione lui mi ha chiamato mi ha definito il superio del film e mi ha detto che trovava la mia presenza in qualche modo un po' inibitoria e posso capirlo perché loro lui sapeva che lui e la moglie si erano presi tantissime libertà nell'adattare la storia e farla diventare un film e quindi posso capire che la mia presenza non fosse così diciamo che fosse un pochino scomoda però siamo diventati amici subito e io lo ammiro tantissimo allora stiamo sforando ma chiudiamo con una battuta oltre a ricordarvi che tutti i loro libri sono nella libreria di leggendo metropolitano chiudiamo proprio con una battuta visto che i giochi dell'essere è il tema del festival noi abbiamo parlato delle trame della sensualità James cosa trovi di terribilmente sensuale in una donna e per Lola al contrario in un uomo proprio una battuta flash e chiudiamo a parte quando gli occhiali rimangono impigliati nei capelli questa è la domanda più imbarazzante che mi sia stata mai fatta in un evento pubblico voglio dire tutto tutto molto successo Bonpiani mi perdonerai la prima e l'ultima volta per questa domanda che James has donna in Italia perché per me non è che sia difficile è che spazio che è qualcosa che ha a vero con con la magia con con la con esa esa sensazione di ver a alguien e che esa persona sia sia il di pronto sia il paisaggio che ti bese, che voglia fondarti con lui. A me è che mi piace molto, tutti. E sto in contra del canon del canon di bellezza tradizionale, sto molto in contra. Per esempio, uno dei miei grandi amori era un chico più bello, non valia nulla, e era il chico che più mi posizia nel mondo, ose è che mi derretì fisicamente. Quindi io credo che in questo senso hai che derrotare un po' i canoni tradizionali, a volte stiamo esperando al hombre perfetto, e questo ci sarà un po' di gioco. Per esempio, io ho stato, ho avuto l'opportunità di stare con autori, una volta Antonio Banderas, lo conosceis, che si supone che è molto guapo, è un tio che è come un pescato, che non ti dice... De verità, no, ose, te deja frio. E poi uno non lo sape dove va a incontrare a ese hombre che ti va a poner la vida del revés. Allora, dunque, è difficile perché la magia è una seduzione, e quindi ha a che vedere con la sensazione che un uomo diventi un po' il tuo paesaggio interiore, ti fa sentire delle vibrazioni e salte ogni volta che ti tocca, ti fa vedere l'ora di appiccicarti pelle contro pelle, fino all'ultima fibra. Una cosa che vorrei dire è che a me non piacciono gli uomini dalla bellezza tradizionale, il canone classico non fa per me uno degli uomini che mi ha fatto impazzire, veramente era un uomo bruttissimo al quale non si sarebbe dato una lira, eppure mi faceva proprio squagliare. Ecco, dobbiamo sovvertirli questi canoni, perché l'uomo perfetto, se lo cerchiamo, o non esiste, o forse ci può anche rendere infelici. Ad esempio, io ho avuto la fortuna, o meglio, ho avuto l'opportunità di conoscere attori, uomini bellissimi, ecco, ad esempio Antonio Banderas mi ha lasciato completamente indifferente, un pesce lesso, che non ha suscitato in me nessunissima sensazione. Non si sa mai dove si incontrerà l'uomo che ci fa ribaltare. Grazie a Lola Beccheria, James Lasdun, e per la traduzione a Milena Finazzi e a Luisa Sanjust. Buon proseguimento di Leggendo Metropolitano.